Oh, finalmente, dopo un po' di ore di sofferenze continue, finalmente arrivano due bronzi in questa quarta giornata di Olimpiadi, in più anche la vittoria nel Little Volley. Vi invito a proposito a passare dal video fatto da Ciccio sulla partita Italia-Turchia di pallavolo femminile. Insomma, finalmente arrivano due bronzi. Uno, quello nel giudo di Maria Centracchio, purtroppo non ho potuto vedere la finale, ma comunque appunto è arrivata una medaglia azzurra. Mentre in questo video vi parlerò in dettaglio invece della finale per il bronzo per quanto riguarda la spada a squadre femminile, la prima delle sei finali a squadre, dei tre tornei a squadre delle scherma in queste Olimpiadi. Spada a squadre che vedeva l'Italia non tra le grandissime favorite, nonostante la presenza di comunque schermitrici molto forti come la Fiammingo, la Navarria, la Isola, che è stata un po' la sorpresa, tra virgolette, di queste Olimpiadi. La 22enne, molto giovane per la scherma, contro le cinesi, che le cinesi alla partenza erano le grandi favorite per la conquista dell'oro. Sono state eliminate in semifinale, dunque si sono ritrovate contro l'Italia e alla fine sono state sconfitte appunto dalla nostra nazionale dalle Azzurre. Partiamo subito parlando del primo giro, primo giro che vede la Fiammingo perdere 0-2 contro la Xu, Isola che invece riesce a battere 3-2 la Xu, Navarria che vince, o meglio che pareggia 3-3 con la Line, quindi primo giro che si conclude con un 6-7 in vantaggio per la Cina. La svolta arriva nei primi due round del secondo giro con Fiammingo che batte ben 4-0 la Xu e Navarria che batte per 5-1 la Xu, quindi veramente due manche fantastiche per gli italiani, nove stoccate consecutive per l'Italia. Un secondo giro che non viene chiuso benissimo con la Isola che perde 3-0 contro la Line, ma comunque un vantaggio, un ottimo vantaggio per l'Italia che chiude questo giro con 15-11. Si passa dunque all'ultimo giro di match con la Navarria che batte 4-2 la Xu, portando appunto l'Italia su un vantaggio di 6 punti, arriva il debutto olimpico per la Santuccio nella penultima manche dell'ultimo giro appunto di questa finale, con la Santuccio che perde questa manche per 1-3 contro la Lin, tra l'altro due punti per la cinese sono arrivati dalle stoccate, un punto da un cartellino rosso assegnato alla Santuccio per un contatto fisico che ha spinto in pratica giù la cinese, quindi gli è stato dato cartellino rosso e quindi stoccata per la Lin. Termina poi con l'incontro Isola-Xu, non senza brivido perché per un po' la Cina si è riportata addirittura a meno 1 appunto dall'Italia, quindi brivido finale. Tra l'altro la Cina è costretta a chiedere un break sanitario di 5 minuti a causa di problemi fisici per la Xu che ha avuto molto probabilmente dei crampi, è stata medicata appunto sul campo di gara quando mancavano 8 secondi dalla fine. Rientra appunto in campo, rientra in piedana la cinese ma arriva la stoccata di Isola che riporta l'Italia a due punti di vantaggio quando mancavano solamente 6 secondi, 21 a 23. Mancava ormai pochissimo, non sono riuscite a fare stoccate né l'una né l'altra e alla fine l'Italia vince la medaglia di bronzo, 23 a 21 contro le grandi favorite appunto di questa prova, le cinesi, quindi un'ottima prestazione dopo la delusione per l'uscita in semifinale contro l'Estonia, la bestia nera dell'Italia appunto nella spada femminile. Comunque ragazzi direi che per questo video vi dobbiamo lasciare un commento, un piacere, iscrivetevi, iscrivetevi anche sulla nostra pagina. Se noi ci vediamo a un prossimo video, tra l'altro nel nuoto sono successe cose come Thomas Ceccona che batte Caleb da essere nei 100 stili libero, così ve la butto lì. Grazie.